Il Napoli si trova in una situazione complessa. Il futuro di Victor O'Simen sarà un elemento cruciale per la strategia di mercato degli azzurri nella prossima stagione. L'attaccante nigeriano è in attesa di conoscere la sua destinazione, ma al momento nessun club si è mostrato disposto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro prevista dal suo contratto. Guido Trombetti, accademico e tifoso del Napoli, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione durante un'intervista a Radio Marte. Trombetti, il Napoli non può non cedere O'Simen. Da matematico, quali sono le probabilità che O'Simen sia venduto a 130 milioni della clausola? Una probabilità bassa, il Napoli non può non cederlo, perché gli servono i soldi, perché Victor guadagna troppo e perché lui, qui, non vuole starci. Se trova chi porta i soldi, io lo accompagno alla porta.130 milioni sull'unghia è improbabile che ti li diano, fortemente improbabile. Non so quanto potrà incassare il Napoli, perché il ragazzo non ha fatto questa grande stagione. Anzi, nello scorso campionato, ha evidenziato i suoi difetti caratteriali, ha concluso Trombetti. Grazie.